E' stato presentato anche a Campobasso il romanzo di Valentina Farinaccio, giornalista e scrittrice molisana, La strada del ritorno è sempre più corta, edito da Mondadori. Nell'auditorium dell'ex Gil, gremito di persone, la scrittrice Antonella Cilento e l'attore Paolo Breguglia hanno accompagnato Valentina nel racconto emozionato del suo primo romanzo. La strada del ritorno è sempre più corta, nasce dopo anni di lavoro, precisamente sei, e dopo un percorso di crescita personale della scrittrice che le ha permesso di riappropriarsi di un passato che le stava sfuggendo di mano. Trama complessa, linguaggio ironico e semplice, che in alcuni punti diventa drammatico e descrive con ricchezza ed esuberanza di particolari ciò che accade in una famiglia di Campobasso colpita da una grande perdita, quella di un padre per Vera, di un marito per Lia, ma soprattutto di un figlio per Santa. Un romanzo dove le figure femminili sono predominanti e scappano proprio fisicamente pur di non confrontarsi e affrontare il dolore. Fino a quando Vera, la più giovane irrequieta, decide di tornare nei luoghi della sua primissima infanzia e di affrontare il passato e con il passato il dolore, perché capisce che è l'unico modo per superare le brutture della vita e affrontarle. La strada del ritorno è sempre più corta, racconta l'amore, la perdita, la trasformazione e riesce a far immedesimare qualsiasi lettore, proprio come il titolo, perché se ci fermiamo un attimo a riflettere è proprio ciò che pensiamo tutti. La strada del ritorno è sempre più corta. Oltre ad essere una scrittrice, Valentina Farinaccio è una giornalista e critico musicale, lavora per la web tv dell'auditorium Parco della Musica di Roma e collabora con il Venerdì di Repubblica.